Ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura di telegiornale ci occupiamo del centro San Carlo di Castelnuovo Scrivia, una realtà molto radicata sul territorio e punto di riferimento per il mondo della disabilità nella bassa Valle Scrivia e nel Tortonese. Tra poco andremo a conoscere gli ospiti davvero un po' speciali di questa struttura. Ragazzi, state guardando la tv? Aspettatemi, arrivo! Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, ciao! Allora ho mantenuto la promessa, ma quanti siete? Grazie per l'accoglienza! Chi mi accompagna a scoprire il centro San Carlo? Michela, ciao, grazie, grazie per l'ospitalità. Allora andiamo insieme, passiamo un pomeriggio insieme a te e agli ospiti di questa bella struttura. Andiamo! Il centro San Carlo Onlus di Castelnuovo si affaccia sulle campagne della bassa Valle Scrivia e nelle fattezze e nei colori trasmette perfettamente l'idea di calore, accoglienza, laboriosità. Quando nasce il centro San Carlo? Il centro San Carlo è nato tanti tanti anni fa qua in Castelnuovo Scrivia per volontà di un gruppo di volontari proprio radicati nel territorio. Diciamo che nel 99 un gruppo di familiari e degli ospiti, dei ragazzi del centro San Carlo, insieme a un gruppo di operatori che già da tempo lavoravano con i propri parenti, hanno pensato di dare origine alla cooperativa San Carlo Onlus, che proprio prende il nome del centro San Carlo. Proprio per cercare di rispondere ai bisogni di queste persone e di poter lavorare sempre meglio con questa realtà. Diciamo che i parenti, dei ragazzi, questi operatori sono comunque i soci fondatori della cooperativa San Carlo, per cui insomma questo è anche garanzia di un ottimo svolgimento del lavoro. Diciamo che questa struttura viene portata avanti dalla cooperativa in sinergia con le strutture che forniscono servizi sanitari e socioassistenziali, quindi l'ASL e il CISA. Il CISA, che è il Consorzio Intercomunale e socioassistenziale, che raggruppa 40 comuni del territorio, con il quale comunque abbiamo sempre lavorato in tandem, portando avanti progetti, condividendo praticamente la quotidianità. Diciamo che comunque insomma siamo molto riconoscenti all'ente, a questo ente, perché in un momento anche di crisi come questo consente comunque a strutture piccole comunque come la nostra di poter portare avanti l'attività in sicurezza e in garanzia. La vostra è una struttura comunque di riferimento per il territorio della Bassavalle Scrivia e non solo, anche del Tortonese. Parliamo del bacino d'utenza, quanti ospiti e poi c'è anche il discorso legato appunto al Dopo di Noi, questo centro che è cresciuto negli anni, ora dà un'assistenza anche notturna, quindi insomma un bel percorso. Diciamo che comunque dopo di noi è stata proprio un'esigenza che abbiamo raccolto sempre comunque dai familiari e grazie comunque alla creazione della fondazione San Carlo Onlus, nata nel 2003, che è stata la prima fondazione di partecipazione in Piemonte, che trae praticamente spunto dalle community foundation americane, dove chiunque può partecipare non solo con un contributo economico ma anche con un contributo personale sia di volontariato che di prestazione professionale. Ecco, grazie alla fondazione San Carlo, di cui la cooperativa è diventata braccio operativo, siamo riusciti a realizzare questa comunità alloggio, anche questa è stata la prima sul nostro territorio, e quindi non solo centro di urno ma anche poi il seguito proprio per rispondere anche a un bisogno di un'utenza comunque adulta e magari con una famiglia anche anziana alle spalle o addirittura ormai assente. Il centro di urno ospita 12 persone, mentre la comunità alloggio sono 8 posti, per cui insomma siamo riusciti a realizzare queste due strutture, alcuni utenti del centro di urno sono diventati ospiti di casa San Carlo, che è proprio qua vicino, quindi anche durante il giorno le attività si svolgono comunque insieme, qua presso il centro di urno, facendo tantissime cose che adesso poi vi andremo a presentare con la nostra responsabile della progettazione. Bene Michela, qui alle nostre spalle vediamo che si sta lavorando, ci sono dei percorsi in atto, parlavamo di progettazione. Allora, andiamo a vedere insieme che cosa sta succedendo qui con i nostri ragazzi. Marzia è la responsabile della progettazione, educatrice qui all'interno del centro, qui c'è anche Titti, che cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo Titti? Stiamo colorando qualcosa? Sì Cosa stiamo colorando? Stiamo facendo un bel disegno natalizio, questa è una delle attività strutturate del centro e esattamente è l'attività manuale, dove con varie fasi di produzione noi arriviamo a un prodotto finito. Gli ospiti della Casa San Carlo, come vi avrà già detto la mia Presidente, e i ragazzi del centro di urno partecipano quotidianamente a queste attività condivise. Attività che hanno come obiettivo principale quello di star bene, star bene all'interno della struttura con se stessi, con gli altri ospiti e con gli operatori. Per far sì che i ragazzi siano bene abbiamo un'equip multidisciplinare, quindi ci sono gli operatori sociosanitari che si occupano delle autonomie, gli educatori professionali che si occupano non solo delle autonomie ma di tutto il percorso cognitivo, comportamentale e relazionale, il tecnico della riabilitazione che è qui alle mie spalle che si occupano dell'attività motoria e le psicologhe. Abbiamo due psicologhe che si occupano, una del supporto psicologico dei colloqui e della musicoterapia e un'altra che si occupa invece di quelli che sono la somministrazione dei test psicologici appunto che sono utili alla definizione del PEI. Noi abbiamo un progetto educativo individualizzato che viene definito all'ingresso del ragazzo in struttura, viene verificato ogni sei mesi e validato a fine anno. Queste nostre attività strutturate sono per lo più di gruppo in modo tale da evitare l'isolamento e di potenziare invece quelle che sono le abilità sociali e relazionali di ciascuno di loro. All'interno comunque del gruppo si riesce a lavorare sull'obiettivo individuale di ciascuno di loro. Le attività sono molte, cambiano di anno in anno perché seguono quella che è la crescita del gruppo e di ciascuno di loro. Alcune sono attività che facciamo da anni perché hanno tantissime finalità e quindi ci teniamo a mantenerla. Sicuramente vorrei parlare dell'integrazione col territorio perché i ragazzi non solo escono a fare le gite, le escursioni, ma abbiamo anche una convenzione con la biblioteca, abbiamo una convenzione con le scuole primarie e secondarie di Castelnuovo-Scrivia perché vogliamo che i nostri ragazzi conoscano il loro territorio ma soprattutto i bambini che poi sono gli adulti di domani conoscano la nostra realtà. Oltre all'integrazione col territorio noi ci occupiamo per esempio del teatro. Il teatro, tutti, vero, tu sarai d'accordo con me, lo facciamo da tanti anni perché ha tantissime finalità oltre a cognitive anche non competitive. Noi abbiamo comunque bisogno di fare in modo che il gruppo non sia mai competitivo ma collaborativo e il teatro riduce al minimo la competizione perché porta a lavorare tutti insieme per una finalità comune che è la rappresentazione finale. Al momento stiamo facendo Macedonia di Fiabe che è un teatro inventato totalmente da noi scritto in rima dove loro ormai sono pronti quindi ci stiamo preparando. C'è questo laboratorio di cui parlavamo prima, manuale, dove per esempio ci prepariamo per i costumi, le scenografie eccetera per il teatro oltre ai lavoretti di Natale eccetera. Poi altre attività sono per esempio la lettura che ci porta alla Bibliocasa. La Bibliocasa è una biblioteca della Casa San Carlo dove raggruppiamo tutte le letture che loro hanno scelto ogni volta ciascuno di loro sceglie un libro che viene letto tutti insieme, riletto, rivisto, poi viene fatta una sintesi e ciascuno di loro rappresenta iconograficamente un personaggio principale piuttosto che una scena saliente e raggruppiamo tutto ciò e andiamo a rimpinguare quella che è la nostra Biblioteca della Casa San Carlo. Attività sono tantissime che facciamo qua al centro appunto sempre cercando di favorire il gruppo e di fare in modo che loro stiano bene con se stessi. Lo vediamo dalle immagini. I ragazzi, gli ospiti stanno lavorando in gruppo come giustamente ha sottolineato Marzia per il piacere di condividere, di stare insieme, spazio davvero alla fantasia, alla creatività perché comunque va ricordato, questo è un tipo di struttura che segue determinate persone che però hanno stimoli, intelletto, voglia di creare, voglia di fare. Certo, un gruppo totalmente eterogeneo che quindi a volte porta un po' di difficoltà nella creatività, nella progettazione, ma poi l'equip, a parte essere un'equip di persone che lavorano insieme da tanti anni, quindi un gruppo molto unito che porta a far nascere, a far sviluppare tutta la nostra fantasia. I ragazzi ci aiutano, i ragazzi annualmente ci dicono quello che è l'attività che vogliono mantenere e quella che invece vorrebbero cambiare. Quindi vengono anche loro coinvolti nella scelta di quelle che sono le nostre attività. Riccardo la interrompo, tanti ragazzi proseguono. Qui stiamo facendo, bene che si veda, attività fisica. Sì, attività motoria di gruppo per ragazzi, noi la facciamo due volte alla settimana per due pomeriggi. I ragazzi sono impegnati in più gruppi a seconda delle loro capacità importanti, l'attività motoria, soprattutto per stimolare le facoltà di esidue di ogni ragazzo. Il gruppo che avete appena visto è il gruppo che si dà sui tappeti. Loro possono svolgere tranquillamente qualunque tipo di attività a livello motorio, soprattutto per il carico dorsale e per tutto quello che riguarda l'attività con gambe, braccia, spalle. Mentre un gruppo un po' più consistente, chiamiamolo così, svolge tranquillamente l'attività motoria in posizione seduta. Eventualmente poi abbiamo anche dei ragazzi che preferiscono gli esercizi, tradizionali, svolte in piedi. Ad ogni modo noi lavoriamo a 360 gradi dal punto di vista motorio. Ora fa freddo, ovviamente è più facile svolgere attività qui all'interno della struttura, però nella bella stagione credo andiate a fare anche delle passeggiate. C'è questa volontà anche da parte degli ospiti? Sicuramente, sicuramente. Sfruttando le belle giornate si può tranquillamente andare a fare attività motoria all'esterno. Adesso purtroppo il tempo non ce lo concede, adesso come adesso, però d'estate riprenderemo, sarebbero sicuramente molto entusiasti. Ed ora andiamo a conoscere gli ospiti del Centro San Carlo. Ognuno di loro è un essere unico, espressione di come la disabilità non sia una diversità, ma semplicemente una condizione di vita. Ogni individuo è diverso dall'altro, senza che per questo venga meno il suo valore. Ascoltate questi ragazzi, le loro idee, sensazioni, passioni. Che bell'albero Marco! È molto bello. È qui al centro? Sì, è molto simpatico quell'albero. E qui cosa fate? E facciamo un po' di tutto, scriviamo, leggiamo, andiamo anche al supermercato, al centro commerciale, è tutto. Anche piscina, anche con il caldo fare ginastica. Un sacco di attività. Anche mangiare fuori. Sono molto contento e anche sono veramente emozionato. Questa è una realtà che tu vivi da tanti anni. Ma magari ricordo male, avete anche il rapporto con la biblioteca qui a Castelnuovo? Anche, certo, sì, si capisce. Ti piace leggere? No. Qui c'è un altro Marco in mia compagnia. Ciao Marco. Mi hanno detto, diceva Marzia poco fa, attività di laboratorio, teatro. Ti stai preparando? Sì, sto preparando un personaggio dove sono questo musical nuovo che faremo tutti insieme che si chiama La Masidonna delle Fiabe. E tu che personaggio interpreterai? Peter Pan. Una parte impegnativa? Sì. E il costume? Il costume sarà tutto verde, il capellino e i pantaloni verde. E quando ti potremo venire a vedere? Non so quando perché adesso prepariamo ancora di più con Marzia e con Anna Grabelli. Proseguiamo sulla scia del teatro. Tu, Elio, che cosa stai preparando? Che personaggio avrai? Shrek è un orco buono. E allora anche tu, l'abito, l'abbigliamento, il costume, a che punto sei? Ehm, metteranno una maschera verde, un giubbotto di cartone, cartone verde. Ma tu, Shrek, non sarai da solo, avrai altri amici, altri compagni? Ehm, proprio i compagni no, ma un mulo. Un mulo. E Fiona? Sì, Fiona è nel castello. E tu, Valentino, che personaggio farai? Capitancino. Hai già recitato? Le volte. E chi hai fatto? Che personaggio? Lupo. Lupo. E' questo un periodo dell'anno molto sentito dagli ospiti del Centro San Carlo, che, impegnati in moltissime attività quotidiane, hanno preso gli scatoloni delle feste e allestito, insieme ai propri educatori, il grande albero di Natale che campeggia nel salone principale. E poi c'è il presepe, che non è mai stato un semplice addobbo natalizio, ma che, nel rappresentare tutti i personaggi e i luoghi della tradizione, assume per ognuno di loro e di noi, un significato intimo e ben preciso. Cesare, ho visto di là quel bell'albero di Natale, però qui c'è anche altro di natalizio. E però, tante belle cose ci sono. L'albero di Natale, il presepe. Il presepe. Andiamo a vederlo da vicino. Il presepe. Chi l'ha inventato quest'anno? Chi l'ha fatto? Michela. E voi l'avete aiutata? Sì. Sì. Qual è la statuina che ti piace di più? Sì. Il re Maggi. Il re Maggi. Sì. Andiamo da Cristina. Sta guardando il presepe, la nostra Cristina. E a te qual è la statuina che piace di più? Figure di donna, di uomo, animali. Animali. Sono le pecore. Sì, mi piacciono molto. Titti, siamo qui dal presepe, al centro San Carlo. È bellissimo. Cosa ti piace di più di questo presepe? Che è molto colorato. L'hai aiutato anche tu a farlo? Sì. Hai scelto il muschio? Sì. Carla, guardavo la tua baglia. Che bel verde, anche io sono di verde oggi. Sì. Sì. Ti piace questo colore? Sì. E oggi la festa che è stata organizzata ti piace? Sì. Cosa dici? Enrica, che bel cartellone. Ti sei divertita a farlo? Molto. Che mano hai messo? Le mani dei bimbi. Oggi è un giorno speciale. E allora Concettina, che è ospite presso la comunità Casa San Carlo, poco più in là rispetto a questa struttura, è venuta a vedere il suo figliolo, Valentino. Quanti amici ha visto? Sì. Tante. Ha visto che si divertono? Sì. Quante attività? Cosa ne pensa? Sono contenta. Prima no. Adesso sì. Ha trovato una bella famiglia, oltre a lei naturalmente. Sì. Sì, tante. E così il treno della vita prosegue la sua corsa sui binari del tempo. È ricco di sorprese, ma anche di momenti non facili, in cui si è chiamati a mettersi alla prova con se stessi. Tutto questo è il Centro San Carlo di Castelnuovo Scrivia. Il personale di questa struttura e i loro ospiti vi aspettano per condividere con voi le loro giornate e il sapore di queste festività natalizie. E allora? Dare Centro San Carlo? Buon vero! Buon vero! Grazie!